Dunque viene servito a rimorchio sulla corsa in modo tale che poi possa trovare il cross e anche dei cross ben fatti che appunto sfruttando la corsa risultano anche essere più potenti come potenza fisica risulta essere più decisivo Darbian quando opera così mentre invece un giocatore come Pasquale che abbiamo visto aspetta sempre la palla tra i piedi e a quel punto non può più scattare perché è già arrivato il corrispondente della squadra avversaria dunque un giocatore così non riesce a creare, parlando di tattica non ci riesce quasi mai infatti mentre invece Darbian inserendosi e anzi qualche volta Darbian si è inserito anche bene poi il centrocampo non è riuscito a servirlo però la prestazione di Darbian che senza la presenza di D'Ambrosio dall'altra parte si sta sempre più reinventando come terzino davvero all'attacco perché con D'Ambrosio diciamo che faceva sostanzialmente quello che fa ora Darbian ossia proporsi in fase offensiva e inserirsi Darbian chiaramente rimaneva un po' più abbottonato per dare equilibrio alla squadra però invece adesso con il ruolo di terzino abbottonato che lo fa Pasquale quantomeno per caratteristiche Darbian veramente una grande non tanto sorpresa perché sapevamo il valore di questo ragazzo e per questo l'abbiamo riscattato ma davvero una grande conferma grande Matteo, bravissimo, continua così Moretti è quasi superfluo parlarne ma ecco è un giocatore che sicuramente nella gestione anche di questa emergenza in tenodire sociale della squadra Granata saprà farsi valere, uno col carattere giusto con la testa giusta grande uomo ed è davvero una fortuna avercelo qui Davvero, io sono molto d'accordo con te dunque facciamo intanto un po' di riassunto un po' di riassunto di ciò che è stata questa prima parte poi passiamo avanti passiamo con altri argomenti sempre legati al Toro ma parlando del futuro dunque abbiamo cercato di dare una soluzione alla questione cerci immobile cercando di essere il più parziale possibile abbiamo assistito anzi abbiamo ascoltato delle parole assurde da parte di gente assurda almeno da quel punto di vista lì e abbiamo cercato di dare i più e i meno della prestazione del Toro perché comunque abbiamo detto che sì è stata una partita abbastanza maledetta ma c'è anche del buono passiamo ultimo argomento riguardante questa partita è un argomento un po' più di tipo superstizioso esoterico perché col Parma non riusciamo a vincere succede sempre qualcosa che ci toglie il piacere della vittoria ma anche del pareggio come come poteva succedere oggi oggi c'è stato il il problema cerci immobile avventura scorso anno bianchi che si mangiava gol incredibili ma non è che a Parma ci hanno fatto la macumba beh può anche essere perché davvero l'anno scorso è stato uno strazio l'andata è a ritorno con il Toro che tra l'altro aveva l'occasione per volare in classifica anche l'anno scorso aveva le sfide consecutive con Cagliari e Parma in casa se non sbaglio tutte e due perse 0 a 1 no 0 a 1 con Cagliari e 3 a 1 con il Parma è dunque una grande occasione che perdemmo all'epoca di di volare o perlomeno di portarci una posizione di classifica interessante e poi al ritorno il blackout dell'ultimo quarto d'ora dopo un grande dopo un grande primo tempo il Toro chiaramente la stanchezza lo 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 la stanchezza ma soprattutto direi la mancanza di concentrazione ci fu davvero un calo che ha quasi del clamoroso tipo quello di Livorno per farvi un esempio che ha portato il Livorno a pareggiare praticamente non nulla ci siamo fatti fregare così abbiamo subito due gol a Livorno quest'anno davvero per non dire banali vabbè non ci soffermiamo su quello comunque sia davvero col Parma non ce la facciamo non ce la facciamo che poi come avete visto il Parma è una squadra di quelle che sono sempre difficili affrontare non eccelle in nulla però è buona in tutto sembra uno simono ma in realtà è così è una squadra buona in tutti i reparti discreta anche caratterialmente non eccelle in niente ossia non vi potete aspettare la stagione da 80 punti dal Parma da questo Parma però potete stare tranquilli che è un rullo compressore a mezzi giri non so se riesco a fare la battuta certo ma più o meno hai fatto cogliere la tua idea ecco un ultimo appunto lo dobbiamo a delle persone che malgrado tutto ci seguono dappertutto e non noi di Radio Granata ma la squadra che sono i nostri tifosi questi tifosi che oggi veramente hanno reso il Tardini come se fosse lo stadio olimpico durante tutto primo tempo in parte del secondo hanno cantato hanno saltato e dalla tv si sentivano solo loro dunque se ci sono dei migliori in campo quelli sono i nostri tifosi di cui noi andiamo fieri dunque grazie a noi perché anche noi siamo tifosi che rendiamo ogni volta anche una trasferta come se fosse un po' una casa ecco hai un'opinione sui nostri tifosi Giacomo? allora io nel prepartito ti avevo anche mandato un messaggio dicendoti sembra di essere a Torino proprio perché oltre al settore ospiti esaurito proprio tutto esaurito come come biglietti proprio c'era una un coro un coro continuo forza vecchio cuore Granata forza Toro forza ragazzi ma che veniva soltanto da quella curva lì il Parma i tifosi del Parma tra l'altro in un tardini neanche granché gremito davvero non si sentivano quasi hanno iniziato a sentire quando il Parma era in vantaggio 2-1 era chiaro ormai ormai non dico che era andata ma il Toro appariva davvero giù di nervi ed è questa la cosa che più mi è dispiaciuta dei fattaci dell'intervallo che il Toro nel secondo tempo proprio sembrava stanco ci può stare ripeto abbiamo giocato per tante partite bene però eravamo proprio scarichi di nervi e però i nostri tifosi davvero sono stati splendidi ci hanno seguito in tantissimi come è giusto che sia anche dato il rendimento della squadra dunque per una grande squadra una grande tifoseria e dopo che noi abbiamo già osservato nel derby primavera di Coppa Italia una mini maratona in prestito al Chisola di Vinovo beh un'altra mini maratona che è andata in prestito e volata a Parma per un giorno certo complimenti a tutti sì davvero complimenti a tutti naturalmente grazie a tutti coloro che hanno scelto di passare l'epifania non magari con la famiglia come tradizione ma con il toro perché se il campionato chiama se il toro chiama molti non importa la distanza dicono presente e vanno dunque possiamo andare fieri di noi perfetto procediamo si è parlato tanto della partita dunque lascio a Giacomo la chiusura la chiusura sintetica sia sulla partita sia con un già con un con una con una piccola anticipazione piccolissima di ciò che sarà Toro Fiorentina dunque commento sintetico che racchiuda tutto questo vai Giacomo esatto guarda la mia idea vuole essere questa e la ribadisco non ci facciamo scoraggiare da questa sconfitta nel senso passiamoci sopra ma senza passare sopra i problemi ossia risolviamo le scorie che arrivano da questa partita però senza preoccuparci perché il toro ha fatto benissimo finora e deve e può continuare a far bene abbiamo davvero abbiamo trovato un'unità di intenti che mancava da tanti anni quindi continuiamo così e non ci facciamo soprattutto demoralizzare da questo incidente continuiamo così senza troppi voli pindarici ma con il sano e giusto realismo e con la Fiorentina quantomeno sappiamo che sarà una partita difficile perché abbiamo una squadra abbiamo da affrontare una squadra che è in lotta per la Champions mancherà Giuseppe Rossi e di questo me ne dispiace perché avrei preferito vederlo in campo sinceramente perché davvero quell'intervento da macellaio di Rinaudo che poi non è un intervento da macellaio non è un intervento da cartellino rosso però voglio fare un appunto per 17 giornate tutti i calciatori che hanno fondato la Fiorentina sono stati attenti e di questo va dato adito e va dato lode sono stati attenti a non intervenire in modo brutale sul ginocchio di Rossi esatto trattonalo buttalo per terra spintarella calcetto tutto quello che vuoi ma se notate nessuno nessuno ha mai osato entrare in quel modo sul ginocchio ed è inutile che la gente difenda il povero ciccino Rinaudo ed è inutile che poi Rinaudo dica i giocatori della Fiorentina mi hanno quasi assalito ci credo perché tu hai fatto l'unica cosa che non andava fatta fare il fallo sul ginocchio scarpini sul ginocchio quindi sinceramente non ci sono scuse punto per un giocatore che ha passato le pene dell'inferno dunque davvero avrei preferito averlo come avversario non sarà così perché rimarrà assente per circa tre mesi per fortuna non si è rotto di nuovo il crociato è solo una distrazione però ecco anche se la Fiorentina non ha le punte è una squadra molto pericolosa certo dunque allora la pagina sul toro si allunga di molto perché ovviamente c'è anche la rubrica che avevamo introdotto scorsa settimana che è la voce del tifoso si ripete oggi sempre con Stefano che si è proposto ancora dunque Giacomo se ci sei proviamo a chiamarlo si si chiamiamolo perché davvero è stato un collaboratore molto bravo mi ha sorpreso l'altra volta sentiamo speriamo che ci sia il tifoso vediamo un po' suono intanto comunico un dato importante siamo a si pronto ah eccolo qua ciao Stefano la voce del tifoso che torna dopo una dopo circa una settimana qui su Radio Granata ciao Stefano come va? ciao ciao a tutti da voi studio buonasera Popolo Granata beh insomma l'analisi della voce del tifoso è molto severa ma nello stesso tempo anche molto crudele vista la sconfitta di Parma una sconfitta che insomma si respirava un po' nell'aria soprattutto poi noi del toro siamo abbastanza pessimisti e ti dirò di più anche il gol di Immobile ha un pochettino illuso dopo il vantaggio ho pensato beh allora magari veramente possiamo fare un qualcosa di importante in realtà poi sono spuntati fuori i soliti errori difensivi delle lacune evidenti nel imparare a gestire il risultato ma soprattutto delle lacune evidenti in fase offensiva dove sull'1-0 proprio il Ciro Napoletano ha avuto quell'occasione importantissima dove ha purtroppo calciato però la palla alle stelle alla Cesar Prates per chi seguiva mai dire gol insomma una 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 ovviamente non una grande non una grande azione però al di là di quello diciamo che sono spuntate fuori le solite lacune il soprattutto il secondo gol per carità Alessandro Lucarelli avrà pure tra un po' 45 anni e sarà magari anche nonno ma resta il fatto che insomma un gol un gol di tacco così ha praticamente colpito da solo Maximovic e Pasquale sono andati praticamente per utilizzare un effemismo al bar l'hanno lasciato colpire da solo insomma sono errori che poi alla fine costano costano perché il Parma era l'ottava forza del campionato era dietro di noi di 5 punti adesso è a meno 2 ma al di là di quello è una squadra che comunque occupa una posizione di campionato simile alla nostra perché ha una buona organizzazione di gioco ma soprattutto ha saputo catalizzare al meglio le occasioni davanti alla porta e questo è che il Toro deve imparare deve imparare ad utilizzare al meglio le proprie risorse quando si arriva davanti alla porta al di là di quello resta un mistero Ventura poi a fine partita l'ha detto ha tolto immobile per una condizione fisica cerci perché non mi stava dando il rendimento utile però resta il fatto che secondo me la partita è stata condizionata e non poco magari da quello che è successo nello spogliatoio al termine del primo tempo lì bisognerebbe indagare ma si sa il tifoso è soltanto una voce che parla e non può indagare all'interno delle dinamiche che possono accadere nello spogliatoio del Toro domenica prossimo arriva la Fiorentina sì sì una Fiorentina senza il Pepito Rossi a cui veramente auguriamo una prontissima guarigione veramente sfortunato questo ragazzo aveva recuperato da un infortuno catastrofico stava facendo molto bene il capocamaniere di questa Serie A e alla fine purtroppo la sfortuna forse lo farà anche saltare in Mondiale resta il fatto però che arriva una Fiorentina sì sì priva di Rossi ma con una grande organizzazione di gioco una squadra che Montella ha veramente plasmato una squadra che non a caso occupa delle posizioni alte di classifica e che vuole fare bene anche in Europa League lì sarà un po' la partita della verità lì capiremo se il Torino può veramente dire qualcosa in questo campionato o semplicemente potrà insomma svolgere il classico ruolo della squadra di metaclassifica io ci credo e da tifoso spero veramente con il cuore che possiamo veramente eh fare bene domenica prossima speriamo che questa partita di Parma sia stato un momentario blackout stagionale Giacomo sì guarda come sempre Stefano ha un commento preciso e infatti anche questa volta direi che sono d'accordo noi dopo il gol di Marchionni ci siamo disuniti